No è impossibile. Abbiamo tre schemi di intonazione della voce, le domande, le affermazioni e gli ordini. Prendiamo la stessa frase, giusto per fare un esempio, poi la cambierò un pochino quando si tratta di modulare l'ordine. Non fa bene mangiare troppe caramelle. Questa è la domanda. Non fa bene mangiare troppe caramelle? Affermazione. Non fa bene mangiare troppe caramelle. Ordine. Non mangiare troppe caramelle. Ci sei? Come si fa a zittire tutto? Perché io non sopporto più. Ci sei?